Contro l'Udinese ha dimostrato carattere, ha dimostrato impegno, non era semplice inferiorità numerica, andare svantaggio, poi insomma c'è stato un po' quel solito blackout ma poi si è ripreso comunque il punticino. E' proprio il benevento di Mister De Zerbie, lo diceva anche il tuo caro Iemmello, no? Sì perché l'ho minacciato oggi, oggi il blackout è probabilmente dovuto anche al vento perché abbiamo preso due gol su due palle dove il vento è stato determinante, la prima la palla messa sopra Tosca che si è fermata e la seconda Lorenzo Venuti ha colpito la palla e se non ci fosse stato il vento avrebbe liberato l'aria Invece la palla poi gli è cascata in area di rigore all'avversario quindi probabilmente è quello. Siamo rimasti in dieci, questo ha pesato molto e sono stati bravissimi perché non è facile da retrocessi trovare gli stimoli per giocare però è un obbligo, non è una possibilità. Noi dobbiamo finire le prossime tre con lo stesso spirito di oggi e cercando di fare punti. Poi dopo se perderemo, giocando, impegnandoci al 100% succede. Però in partenza dobbiamo allenarci da martedì fino al sabato in maniera massimale e giocare al massimo. Qualche settimana fa tu hai detto non voglio che diventi un tormentone questa cosa dei zerbi sì, dei zerbi no. Inevitabilmente mister è diventato un tormentone perché si sa c'è attesa, c'è trepidazione, il benevento è già proiettato verso il futuro al di là insomma delle bellissime apparizioni che rendono ancora più forti la consapevolezza di voler dare continuità a questo benevento con la sua presenza. Ieri ho provato un po' a interpretare le dichiarazioni, mi siederò a tavolino. È un passo in avanti rispetto a quelle dichiarazioni che hanno accompagnato il post gara di Milano dove io vado a interpretazione perché non sei chiarissimo o meglio forse non vogliamo capire noi. Però lì sembrava quasi dire non lo so mi sento questa retrocessione addosso. Ieri invece è sembrata un'apertura per dire attenzione mi voglio sedere, voglio capire che tipo di progetto ci sarà e poi perché no. Insomma anche perché De Zerbi non è uno che ha paura delle scommesse e questa sarebbe una scommessa no? No, non era né chiusura prima né apertura dopo. Sedermi al tavolino e ci mancherebbe anche che non mi sieda al tavolino perché ho trovato delle persone che mi hanno rispettato e mi hanno dato tutto. Tutto quello che potevano da un punto di vista umano quindi mi siederò sempre al tavolino con Foggia, con Vigorito e con tutti quelli di Benevento. Non è cambiato niente perché ho detto anche ieri in conferenza io non metto in competizione e chi mi conosce sa che purtroppo non faccio fatica a dire le bugie. Io non metto in competizione Benevento con un'altra squadra di Serie A o con un'altra squadra di Serie B o un posto migliore dal punto di vista calcistico. Io cerco solo di capire se dal mio punto di vista ho l'entusiasmo, la forza e la passione che ho avuto quest'anno e che voglio sempre avere nella mia carriera che è quella che mi distingo un po' dagli altri, probabilmente il trasporto, anche in Serie B ripartendo da un campionato che mi ha segnato molto. Tutto qua. È una questione facile, non c'è tanto da capire. È chiaro che se poi uno vuole fare dietrologia o cercare di individuare altri motivi per i quali possa temporeggiare o magari dire di no, ognuno è libero di fare quello che vuole. Però questa è l'unica verità. Il campionato di quest'anno è stato massacrante e per ripartire devo essere sicuro perché io già una volta sono ripartito tenendo conto altri fattori che non fossero questi del mio eventuale abbassamento di entusiasmo e di forza e poi non è finita bene. Quindi questo è l'unico motivo. Non c'è un aspetto economico, non c'è un aspetto contrattuale. È solo questo. Ma la progettualità va di pari passo con la serietà delle persone con cui lavori. Se tu lavori con Vigorito e con Foggia che ha la mia età più o meno e ha fame di far bene, quelle sono già garanzie. È un aspetto solo mio, sempre che il Benevento mi voglia tenere. Io parlo di me stesso nella scelta. Non è un aspetto... e credetemi perché se no potrei dire no, io voglio stare in Serie A, voglio rimanere in Serie A e magari sarebbe anche più comprensibile la cosa se volessi sviare. Ma invece preferisco dire la verità perché nel bene e nel male puoi essere apprezzato. La verità è che rigenerarsi, come hai detto te, e ripartire dopo un campionato veramente che l'avete vissuto pure voi, quindi voi sapete a cosa mi riferisco, non è facile. Allora se io sono quello che sono stato in questi mesi attaccato 24 su 24, allora non ci saranno problemi né economici né contrattuali né di progettualità. Se invece ritengo, riterrò che oggi farei fatica a riprendere con la stessa passione, la stessa cattiveria di fare un punto oggi con l'Udinese, perché oggi per fare un punto con l'Udinese da retrocesso devi spingerti oltre. Devi spingerti oltre non la domenica ma dal martedì e poi fare tutta una settimana spinta. Se capirò questo o se lo valuterò anche col Presidente questo. C'hai ragione. Oggi io sono contento dal punto di vista della cattiveria, dell'atteggiamento, dell'approccio. Non sono tanto contento del gioco, ma te lo spiego. Così spiego anche il perché in questi mesi ho spesso cambiato la difesa a tre e la difesa a due. Quando noi giochiamo con la difesa a due, quindi con i due centrali e i due terzini e incontriamo due punte orizzontali, noi facciamo sempre fatica a venire fuori con la palla. Se non abbiamo la netta superiorità numerica da dietro facciamo fatica poi in tutto lo sviluppo. Questo anche perché non abbiamo grandi giocatori con dinamismo in mezzo al campo. Sandro e Viola non hanno un dinamismo così elevato per poterti permettere l'uscita della palla due contro due e poi comunque gestirla oltre i difensori tuoi. E allora è per quello che ogni tanto spesso, quasi sempre, quando abbiamo trovato due attaccanti abbiamo giocato a tre. Guarda, sono d'accordo con te e sono cose che mi fanno riflettere tanto. Io penso che il rispetto alle persone lo si dia con i fatti. Rispetto di tenere attaccata una squadra ancora già da retrocessa, lottando come se un punto fosse di vitale importanza, questo è un rispetto che cerchiamo di dare tutti, non solo io chiaramente, alla gente. E l'altro è sul futuro, lo stesso rispetto lo si dà prendendo una scelta, facendo una scelta lucida. Perché le scelte vanno fatte in maniera lucida e se si può dare quello che la gente si aspetta da me, se no rimanere solo per fare un piacere è che poi io, l'ho sempre detto, lo ripeto, sono orgoglioso di lavorare in questa società. Sono orgoglioso di essere venuto, di essere arrivato con un po' qualche mugugno e di aver finito la stagione comunque apprezzato come persona. Questo è un orgoglio personale per me e per la mia famiglia. E il futuro uno deve essere consapevole di poter dare il 100% sempre. Perché se no, se no è meglio fermarsi. Ma non lo so, io penso che ogni squadra è composta da individui diversi e quindi la modalità che deve avere l'allenatore cambia. Cambia di squadra in squadra ma cambia da individuo a individuo. È un'impresa che non faccio io, è un'impresa che fanno i calciatori perché i calciatori miei sono dei professionisti veri. Magari non saremo né i calciatori né l'allenatore eccezionali nella qualità ma come professionalità e come serietà stanno dimostrando di non avere niente da imparare da nessuno. Sarri non lo so quello che toccherà per stimolare ma sai quando ti giochi lo scudetto c'è poco da stimolare. Quando non ti giochi niente sei retrocesso che allora lì c'è un pochino più da stimolare. Vabbè più che altro Diuricic le condizioni. Sono preoccupato perché Diuricic se non ci sarà domenica a ferrare con la spalla si farà compagnia a Brignola e a Cataldi tutti e due squalificati quindi dovremo fare un po' la conta per capire come andremo perché andremo sicuramente per fare una partita per portare via i punti e giocherà la squadra migliore che posso mettere. Poi magari sbaglio però sicuramente cercherò di mettere la migliore. Ti ringrazio ci vedremo domenica. Sai quella domanda noi te la faremo sempre e ogni volta te la faremo magari con la speranza che avrai già deciso. Però giornalisticamente noi te la faremo sempre sappilo. Quindi arriva già preparato perché ci sarà o io o Antonio o Silver. Mi mette anche in difficoltà questa situazione perché sembra come se debba essere pregato in realtà non è così. Ci sono altre le motivazioni. Prendila come lavoro no? Noi ci aspettiamo lo scoop, ce lo darai a noi, ci chiamerai in settimana se hai deciso. Insomma una promessa attraverso questo canale tu dirai quale sarà la tua decisione finale. No guarda, prendila come lavoro va bene però poi il lavoro si mischia io, io mischio sempre anche ai rapporti e quindi bisogna capire un po' quello. Grazie.